I 5 uomini più ricchi d'Italia, classifica giornata 2023. In questo video vi mostrerò i 5 uomini più ricchi d'Italia. E se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo per non perdere tutte le curiosità di Banche Sterse Italia. Al quinto posto, Sergio Strevanato e famiglia. Chi cazzo c'è a Bebe Bicchila, ma chi sei? L'industriale farmaceutico padovano con un patrimonio di 5,5 miliardi di dollari. Al quarto posto, Piero Ferrari, figlio di Enzo Ferrari, il fondatore della casa automobilistica più popolare al mondo. Il suo patrimonio è di 5,5 miliardi di dollari. Al terzo posto, Massimiliana Landini Aleotti, con un patrimonio di 6,7 miliardi di dollari. Al secondo posto, Giorgio Armani, che con un patrimonio di 7,8 miliardi non ha bisogno di presentazioni. Al primo posto, dal 2018 ad oggi, troviamo Giovanni Ferrero, con ben 38,9 miliardi di dollari. Ti è piaciuta questa classifica? Scrivicelo nei commenti.